Buongiorno, come mai l'occasione della presenza vostra nella scuola Calamandrei? Allora, questa è la conclusione di un corso di fotografia effettuato all'interno della Calamandrei, alle quinte classi e questa è l'espressione per far capire ai ragazzi ciò che la fotografia può immortalare, può dare agli altri. Quindi in questa occasione è giusto e doveroso dire che cos'è il Masci. Il Masci movimento adulti, scout cattolici italiani, è nato nel 1954 e si rivolge principalmente a tutti gli ex scout, tutte le persone adulti che provengono dai movimenti giovanili e anche a chi condivide lo stile di vita dello scoutismo come filosofia di vita. Cioè il Masci è un movimento che lavora principalmente nel sociale, si rivolge agli altri. Poiché nel suo patto associativo ci sono tre C fondamentali. La C del creato, la C del cuore, la C della città. La C del creato è l'amore verso la natura, condivisione con la natura dello sviluppo, protezione della natura. Nel cuore è l'amore verso gli altri, la condivisione con i fratelli immigrati delle loro realtà, capire le loro realtà e aiutarli al sostenimento di queste persone. C, quello della città è far vivere, vivere attivamente nella città tutti gli adulti, scout e nonni. Da fare a livello di coscienza, in appoggio all'amministrazione locale, fare eventuali denunce su sperperi di soldi pubblici oppure eventuali denunce su malservizi nella città. Oppure è lociare se ci sono punti belli e costruiti architettonicamente a te. Questo è il Masci. Il Masci segue la filosofia dello scaldismo e segue tutti gli insegnamenti dello scaldismo. La vita all'aperto, la fratellanza tra i poveri e la condivisione nella città. Allora, il movimento, il movimento adulto, scout e cattore cittadino, è un movimento attivo sul territorio comunale, locale, degli enti locali, è un movimento attivo a livello nazionale, vive la città, fa le strade della città, vive la città e per questo partecipi a tutte le iniziative a carattere sociale che si sviluppano sul territorio. Il movimento adulto, scout e cattore cittadino, è un movimento che fa politica, ma non è un movimento legato a qualsiasi partito, è un movimento da partire. I nostri soci possono presentarsi a un'elezione come singoli, possono presentarsi come candidati all'elezione come singoli individui, ma non con le insegne del Masci e ne rappresentano il Masci nella competizione elettorale. Poiché il movimento fa politica perché lavora sul territorio comunale, ma non è legato a questo punto del posto. Poiché il movimento fa politica perché lavora sul territorio comunale, non è legato a questo punto del posto. Poiché il movimento fa politica perché lavora sul territorio comunale, non è legato a questo punto del posto.